Volano le offerte di lavoro in Emilia-Romagna nei primi sei mesi del 2017 sono cresciute del 26,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un valore decisamente superiore alla media nazionale, ferma 10 punti indietro. Lo ha reso noto l'osservatorio dell'agente interinale Infojobs. L'Emilia-Romagna si conferma quindi seconda regione più attiva in Italia alle spalle della Lombardia, tra le province più attive Bologna e Capofila regionale, con poco meno di un terzo dell'intera offerta di lavoro e con un aumento delle posizioni aperte del 33,5% rispetto al 2016. Al secondo posto Modena, seguita da Reggio Emilia e Parma, tutte in doppia cifra, aumenti più contenuti nell'ordine a Forlicesena, Ravenna, Ferrara, Piacenza e Rimini. Guardando le posizioni che risultano aperte, il settore più dinamico è quello di consulenza manageriale e revisione con il 44% del totale regionale. Seguono telecomunicazioni, commercio e distribuzione e information and communication technology. Chiude la top 5 servizi ambientali, mentre rientrano nelle prime 10 posizioni, anche salute e benessere, hotel e ristorazione e infine l'immobiliare. Per quanto riguarda le categorie e con più possibilità di impiego, la fanno da padrone ancora il manifatturiero, a seguire il commercio al dettaglio, il settore vendite, amministrazione e contabilità e infine ingegneria.